un cordiale saluto buongiorno e ben ritrovate la resegna stampa di fano tv oggi è lunedì 28 settembre 2020 iniziamo una nuova settimana insieme iniziamo la giornata con l'informazione in diretta alle 7 del mattino e iniziamo con il santo di oggi e lo vediamo con il nostro con la nostra grafica oggi è san venceslao il sole sorgerà alle 7 0 3 e tramonterà alle 18 e 59 minuti e adesso diamo uno sguardo al diamo uno sguardo al tempo allora il tempo per la giornata di oggi sarà con cielo nuvoloso in progressiva diminuzione della copertura schiarite nella seconda parte della giornata nelle prime ore avremo ancora fenomeni precipitazioni al nord della regione poi nel corso della giornata fino al pomeriggio possibili deboli isolati piovaschi più probabili nelle zone interne martedì 29 ancora cielo perturbato anche se non ci saranno piogge mercoledì 30 settembre ancora cielo sereno poco nuvoloso con copertura maggiore nelle ore centrali della giornata l'ultima parte della settimana entrante sarà probabilmente interessata da condizioni di instabilità e variabilità allora andiamo adesso a leggere i giornali cominciamo dal carlino di pesero la fotonotizia per lo sport lo sport in particolare la vl vuoto a perdere titola il giornale vl ko nel palace senza pubblico polemica su divieti e deroghe testa a testa con sassari poi il ko nell'ultimo quarto repegia si è spento il fuoco dice caos spettatori la protesta di amadori dice inconcepibile così è dura tenere in piedi i conti e poi borzan grazie gemellaro il direttore generale della vis in ripresa dopo l'arresto cardiaco allo stadio telefonata al medico che gli ha salvato la vita insieme alla collega patrignani scooter si scontra con un camion dei rifiuti tragedia sfiorate in via paterni nella zona del mare del mare a pesero mentre la targa dedicata a craxi senza pace sfregiata nuovamente con scritte il meteo l'autunno picchiaduro temperature giù di 10 gradi sotto belloni villa marina parcheggio da comprare il comune pensa alla trattativa con l'inps e a fano stazione ferroviaria come dormitorio il binario morto della disperazione andiamo a vedere il corriere adriatico l'apertura miralfiore sicurezza in tre mosse sarà delineata una corsia per il transito dei mezzi delle forze dell'ordine con il percorso blindato oppure il primo parco giochi musicale della città firmato renco e ristrutturazione della casa colonica centro pagina lo sport con la vl ci prova ma vince sassari il fano sfiora l'impresona a perugia 2 a 2 risultato finale mentre per la politica la giunta tre intoccabili ciccioli verso la presidenza la presidenza del consiglio mentre l'asur replica ai pediatri i bimbi li dovete visitare voi operatori del pincio a fano con l'animazione c'è anche la sicurezza a urbino gambini accusa invasi dai cinghiali l'atc inadempiente la pioggia allarga allaga il carcere salta l'impianto elettrico disagi in una sezione di villa fastigi detenuti in alloggio di fortuna la protesta dei sindacati degli agenti che dicono ora basta e le pagine interne cominciamo con la politica dal corriere adriatico la giunta abbiamo visto poco fa tre intoccabili sono i sicuri quelli che avranno un posto in giunta chi sono questi tre intoccabili guido castelli di fratelli d'italia mirco calloni della lega e filippo salta martini della lega poi ci sono in corsa come vediamo qua dal riquadro chiara biondi della lega elena leonardi di fratelli d'italia andrea puzzu di fratelli d'italia daniele silvetti e stefano guzzi di forza italia le altre ipotesi dare la vice presidenza della regione mirco carloni e la presidenza del consiglio a carlo ciccioli dunque il titolo presidenza del consiglio adesso in pol c'è lui c'è ciccioli appunto dei fratelli d'italia domani la leader meloni incontrerà il partito marchigiano per fare il punto della situazione e già dopo il vertice la mappa del governo sarà più definita mentre forza italia si prepara ad un confronto a distanza con berlusconi ancora positivo al covid il leader azzurro è in quarantena nella villa di arcore tuttavia ha annunciato di voler riunire i coordinatori regionali per definire le strategie di rilancio del partito ed è chiaro che il caso marche sarà destinato a tenere banco in ballo un assessorato che potrebbe creare però qualche imbarazzo al neopresidente acquaroli lui vorrebbe acquaroli mettere in squadra stefano guzzi sindaco di colli al metauro però dentro forza italia ragionamenti sono diversi e riguardano soprattutto la rappresentatività dei territori ancona capoluogo di regione così facendo resterebbe fuori da palazzo raffaello se si puntasse su un altro esterno come il vice coordinatore regionale daniele silvetti nonché coordinatore provinciale nella città d'orica allora il puzzle si comporrebbe senza fatica domani acquaroli andrà a roma dalla meloni la lega non cede ai tavoli di confronto sul fronte invece del coronavirus contagia anche a scuola il piceno fa da traino chiuso un asilo nido ormai sono scomparsi possiamo dire nelle marche i casi positivi da rientro dall'estero non se ne vedono da tre giorni o dalla sardegna lì l'ultimo risale a domenica mentre crescono i positivi sintomatici spediti a fare il tampone dal medico di famiglia con febbre o tosse e cominciano a contarsi i casi di infezione emersi dallo screening in ambito scolastico la quarantena per i compagni di classe e gli insegnanti che sono stati in aula con lui e tutti vengono sottoposti a tamponi ieri tre positivi tutti della provincia di ascoli piceno anche se uno di loro iscritto all'università di ancona sempre da ascoli si registra la positività di un bimbo di otto mesi infettato dalla nonna e ricoverato al Salesi mentre il contagio di una educatrice ha costretto alla chiusura dell'asilo nido per ridurre i rischi di focolaio nonostante l'aumento dei contagi gli attualmente positivi sono saliti a settembre 3 90 7 60 di ieri l'impatto del covid sugli ospedali marchigiani continua ad essere contenuto anche per effetto della diminuzione dell'età media dei positivi rispetto alla fase 1 ieri anzi i ricoveri per covid sono scesi da 25 22 due soltanto in terapia intensiva che sono sempre più o meno gli stessi presto un nuovo drive in a montecchio titola il corriere adriatico per gli studenti di pesero e valle foglia c'è il problema del ritardo dei tamponi attesi attese bibliche anche per avere le risposte e quanto hanno denunciato in questi giorni i pediatri e i medici di base che sono stati chiamati che sono chiamati intervenire in caso di febbre sintomi relativi presentati da uno scolaro da uno studente dunque la sanità pubblica deve intervenire replica e di si difende si difende con con il dottore eugenio carlotti della revasta 1 che dice conti contiamo di attivare quanto prima un punto drive quindi in macchina a montecchio per effettuare tamponi rapidi ai ragazzi che frequentano le scuole nel bacino che va da valle foglia fino a pesero e per implementare le prestazioni del percorso scuole velocizzare sia le effettuazioni che le risposte ai tamponi una soluzione che risponde a una reale urgenza visto che al momento i bambini e ragazzi seguiti da pediatri e medici di base a pesero e nel territorio limitrofo sono costretti a spostarsi fino a fano nell'area del codma la cronaca schianto in zona mare tragedia sfiorata titolo del carlino di pesero via paterni camion di marche multiservizi non avrebbe rispettato la precedenza un 23enne in sella ad uno scuterone impatta contro questo furgone lo vedete qui nella fotografia questo camioncino dei rifiuti i feriti sono gravi è stato portato a torrette il ferito con importante lesione al volto non è in un piccolo però di vita e leso anche l'altro autista la polizia locale sul posto intanto nuovi danni alla targa di craxi è una scritta sotto il nome ladro non c'è pace dunque in piazzale matteotti a pesero contestata fin dall'inizio fatta bersaglio la scorsa estate di gesti poco educati c'è stato appeso anche un sacchetto di escrementi sulla targa stessa ora questa targa risulta graffiata il nome di craxi quasi non si legge più e qualcuno sotto al suo nome ha scritto appunto la parola ladro e qua invece si parla di spalla del meteo quasi invernale temperature crollate di circa 10 gradi la pagina di favore il corredo adriatico bed and breakfast riuniti qualifichiamo l'offerta prima iniziativa aggregativa di 291 attività nella provincia almeno una in 44 comuni a fano si trovano 69 bed and breakfast il 24 per cento del totale della provincia 45 a urbino e il 29 e 29 bed and breakfast a pesero si sono riuniti in questa associazione che si chiama luoghi di raffaello rossini e vitruvio e si riunisce appunto tutti questi bed and breakfast alloggi turistici turistici nella nostra provincia offrono colazione e letto per ovviamente per la notte sotto invece rifiuti abbandonati scattano 136 verbali elevati da aset su circa 4000 controlli e questo grazie anche alle telecamere sono gli ultimi dati forniti dal presidente paolo reginelli di aset dove risulta che su 4000 controlli gli ispettori ambientali hanno redatto 103 verbali mentre altri 33 sono stati compilati grazie alle telecamere che poste a turno su più isole ecologiche documentano il comportamento di quei cittadini che abbandonano in modo irregolare i loro rifiuti l'aset infatti ha messo in opera lo ricordiamo una rete di video sorveglianza con la quale riesce a individuare i trasgressori il servizio di ispettori ambientali attivo su richiesta all'aset al momento nei comuni di fano fossombrone pergola e colli al metauro sempre dalla pagina di fano del corriere adriatico anno pastorale le indicazioni del vescovo alla chiesa locale questa sera alle ore 21 in diretta streaming sul sito web della diocesi ci sarà questo incontro all'insegna dell'appello del papa che è esercitare pazienza e infondere speranze cercando corresponsabilità pincio restaurato il pincio di fano restau e animazione assicurano anche la sicurezza gli operatori sono soddisfatti del nuovo clima sociale nel salotto archeologico la rissa è stato soltanto quella del pincio un fatto isolato le diverse frequentazioni solitamente non danno problemi chieste però più manifestazioni e divise adozione distanze invece nel cammino al canile di melampo sostegno di 15 euro al mese con scelta tramite un album di fotografie affano invece dal carlino il binario morto della solitudine la stazione ferroviaria tra chi cerca solo un riparo per passare la notte e chi va in cerca di droga non mancano gli angoli per fare il sesso fugace si allarga si allaga scusate un'intera sezione del carcere di pesaro e salta l'impianto elettrico ora basta i sindacati di polizia penitenziaria dicono troppi rischi per il personale che ha dovuto anche trasferire 40 detenuti dopo la sconfitta invece la politica non distruggiamo le alleanze pozzi difende seri accuse assurde e poi un centro di gravità permanente per i riformisti da urbino ambito di caccia inadempiente nel contenimento dei cinghiali intanto la fotografia ripropone il correo adriatico di questi sette cuccioli vicino all'ospedale una fotografia che fece scalpore era il giugno di quest'anno qualche mese fa ripresi fotografati vicino all'ospedale due cinghiali insomma una bella famigliola di sette cuccioli insomma e questi che passeggiavano per la prima periferia della città ducale immortalati da decine decine di telefonini con immagini che invadevano in un secondo tempo il web e certamente non era stata non è stata una bella cartolina per urbino e sindaco però critica la gestione dell'atc pesero 1 rispondendo appunto alla interrogazione di londei sotto classe prima tutti i negativi tamponi eseguiti cessato allarme per 18 bambini e 4 insegnanti dell'elementare di urbania a scuola da giovedì giovedì dunque sono tutti negativi al coronavirus questa è la buona notizia l'effetto dei tamponi effettuati la settimana scorsa dal dipartimento di prevenzione dell'asur in quarantena erano finiti 18 alunni 4 insegnanti e adesso insomma tutti i 18 alunni comunque sono negativi torneranno a scuola valcesano le alte marche creative c'è pure il logo della strategia a fonte vellano presentata fonte vellano ha presentato il brand dei nove comuni uniti nell'area interna d'ora in poi sarà il marchio alte marche creative cuore accogliente dell'appennino con tanto di logo a identificare l'area interna appennino basso pesarese anconetano per identificare l'iniziativa politica dei nove comuni e rappresentare dunque la creatività a servizio della strategia dare un'immagine collettiva delle energie a servizio del rilancio ancora nuovo regolamento imu da san costanzo c'è anche una guida online online agevolazioni per il covid tassa dimezzata per i fabbricati inagibili senigallia tempo scaduto per le nuove intese volpini olivetti da soli al ballottaggio il centrodestra fedeli al programma presentato il candidato dem strizza l'occhio al diamantini la possibile composizione dell'aula dopo il voto del 4 e 5 ottobre eccolo qua così come potrebbe essere il nuovo consiglio comunale di senigallia poi sparita la fotografia del piccolo christian l'immagine era collegata ad un manifesto la maestra parla di un gesto inaccettabile christian piccolo morto in un incidente qualche settimana fa alma e siamo allo sport l'alma che ha giocato al curi di perugia ed ha pareggiato due a due ma insomma poteva poteva puntare al colpaccio e quindi portare a casa i tre punti e soprattutto un'autostima da brivido perché comunque vincere al curi non sarà facile anche per le altre squadre soprattutto al debutto insomma fanno che pareggia due a due accarezza una prima davvero con il botto passa al curi raddoppia chiude il primo tempo avanti di due gol poi però subisce il ritorno del perugia di caserta e deve accontentarsi di un punto le pagelle barbuti grande qualità parlati è il migliore in campo l'altra pagina alessandrini l'allenatore dà applausi sono orgoglioso dice il mister granata che allogia i suoi giocatori tornare a casa con un punto da questo campo è una grande soddisfazione match dunque da incorniciare questo è alessandrini questo invece a fianco è caserta il mister del perugia il grifo ha faticato e non poco a resistere al fano le squadre hanno dovuto hanno avuto un tempo a testa andiamo sull'altra pagina invece del resto del carlino il basket vl la protesta nel palace vuoto senza incassi è un disastro astronave senza pubblico la strana domenica del basket mentre altrove i tifosi ci sono e come amadori presidente del consorzio dice se andiamo avanti così altro che rinforzi si rischia la banca rotta la regione marca nel mezzo delle elezioni non ha firmato la deroga per le presenze nei palzetti ecco perché a pesero non c'erano tifosi quello che è accaduto è inconcepibile per noi abbonamenti e biglietti sono chiaramente fondamentali gli incassi in questo caso fanno una differenza vl comunque che perde 85 a 95 contro la dinamo lo spettacolo finisce troppo presto 18 minuti ad altissimo livello poi sassare rimonta e si va al corpo a corpo nel secondo tempo fino al cedimento finale i 213 centimetri di bilan mettono in crisi i lunghi battaglia persa al rimbalzo repeggia l'aleatore della vl dice si è spento il fuoco il coach analizza gli ultimi quattro minuti e le lacune emerse nel match a subire 95 punti giocando in casa non mi piace la difesa non è all'altezza rispetto agli anni scorsi la vl ha una guida di giocatori e giocatori che possono soddisfare le sue esigenze intanto i tifosi fuori dallo stad dal palazzetto li vedete nel parcheggio davanti ai computer per vedere la partita ed essere lì a due passi a sentire le urla dalla dalla uscire fuori dal palazzetto non ci va giù vedere gli altri palace con il pubblico e il nostro invece vuoto il bel saluto degli ultra ai giocatori prima del match poi la gara seguite in tv al bar date una medaglia a cain di più non poteva fare insomma con un altro lungo ci divertiamo questo è il commento dei tifosi intanto il ritorno alla vita di borozan chiama gemellaro il medico ringrazia il cielo dice non me il direttore della vis sta meglio dopo l'arresto cardiaco allo stadio le parole del dottore che lo ha salvato insieme al collega patrignani dice ha detto ringraziate il cielo non ringraziatevi lo ha ripetuto anche a vlado che dal letto dell'ospedale appena ripresa conoscenza ha ripetuto il suo grazie al responsabile sanitario della vis che assieme al massaggiatore patrignani ha bruciato sul tempo la morte che correva verso di lui queste le la pagina invece della della vis in campo e non in tribuna la vis c'è ora bisogna solo lavorare di fino la vis che ha pareggiato due a due ha giocato l'anticipo luci e ombre sulla prima ma pure reattività e coraggio di osare con l'egnago non la migliore squadra dice l'allenatore però le premesse per fare bene direi che ci sono tutte nava molto più alta che terzino e la sorpresa gelonese team come una moto in rodaggio manca l'ultima pedina dice l'allenatore per quanto riguarda il mercato bianco rosso per quanto invece concerne il motociclismo marini superstar della moto 2 morbidelli e rossi sfortunati luca vince ancora e va a più 20 in classifica in moto gp valentino cade il compagno di squadra è secondo mentre sull'ultima pagina della nostra rassegna stampa no questa è l'ultima pagina quella della moto 2 va bene abbiamo tempo ancora per vedere velocemente sì facciamolo al volo allora perché c'è sempre qualcuno che magari si sintonizza a quest'ora abbiamo ancora qualche minuto allora vi facciamo rivedere velocemente le prime due pagine del carlino e del corriere adriatico intanto come vedete lo sport in primo piano con borza nel direttore generale della vispesero che è stato colpito da un infarto sabato mentre era allo stadio ed è stato salvato praticamente da gemellaro lui lo ringrazia ma gemellaro come abbiamo visto gli ha detto ringrazia il cielo perché è andato tutto bene scooter si scontra invece con un camion dei rifiuti tragedia sfiorata nella zona di via paterni zona mare a pesero craxi senza pace sfregiata nuovamente la targa l'autunno che picchia duro temperature giù di 10 gradi e poi belloni che dice villa marina il parcheggio è da comprare il comune sta pensando in una trattativa con l'inps mentre sul corriere adriatico centro pagina ovviamente lo sport lo vedete la vl ci prova ma vince sassari il fano sfiora l'impresa perugia 2 a 2 mira al fiore invece sicurezza in tre mosse sarà delineata una corsia per il transito dei mezzi delle forze dell'ordine con il percorso blindato oppure il primo parco giochi musicale della città fermato renco e ristrutturazione della casa colonica poi si parla di politica con la giunta che ancora non è stata formata si stanno facendo le ultime riunioni domani il governatore acquaroli incontrerà giorgia meloni per iniziare a ragionare sull'esecutivo tre nomi in insindacabili cioè quelli che sono ormai blindati questi tre nomi sono quelli di guido castelli mirco carloni e filippo saltamartini carlo ciccioli invece potrebbe essere l'uomo giusto per l'incarico di presidente del consiglio visto che conosce bene la macchina consigliare la pioggia allaga il carcere e salta l'impianto elettrico disagi in una sezione detenuti in alloggio di fortuna la protesta dei sindacati degli agenti che dicono ora basta e ora non ci fermiamo qua grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20 e 30 con il telegiornale occhio alla notizia arrivederci grazie